Cos'è questa misteriosa nebbia che proviene dal sottosuolo? È la sgramma nebbia che rende le persone strane e sgrammaticate. Ma da dove proviene? La risposta viene da un lontano passato. Tre libri magici sepolti in un'antica biblioteca. Un oscuro incantesimo che mai nessuno avrebbe dovuto pronunciare. E una ragazza curiosa e impavida ti accompagneranno in un'avventura straordinaria. Usa le tue conoscenze grammaticali e il tuo sapere come uno scudo di verità. Ross è già in campo. E tu? Preparati a seguirla.